Nel precedente episodio, dopo aver viaggiato con loro, Diana ha deciso di lasciare il gruppo dei Locomonauti, che si rimette intanto in viaggio alla ricerca dei Pokémon di Lucius. In questa puntata, Frid chiede alla sua ciurma di iniziare a pensare a come racimolare dei soldi. Intanto Lico continua a seguire le lezioni a distanza, tenendosi anche in contatto con e la lezione del giorno si basa sul legame ideale tra allenatori e Pokémon e il compito assegnato è quello di fare un report su una coppia che gli studenti conoscono. L'iniziato per Lico ovviamente è Frid insieme al suo Pikachu, con il professore che nel frattempo sta parlando agli altri di una missione di recupero Pokémon, con i due ragazzi che si uniscono a lui. Il trio arriva in una locanda dove vengono accolti da Shine, un amico di Frid, che ha richiesto aiuto per ritrovare il suo Bramblin, che è stato spazzato via da un forte vento. Shine ha anche sentito che c'è un gruppo di cacciatori Pokémon nei paraggi ed è dunque preoccupato per la sua creatura. Il gruppo praticamente lo trova subito, ma il Pokémon si lascia troppo facilmente trasportare dal vento, finendo per perdersi ulteriormente. Frid e Pikachu iniziano anche a litigare perché hanno opinioni diverse sulla direzione da seguire, quando notano che Bramblin è lì vicino appeso ad un albero, ma il vento lo porta nuovamente via. Seguendo la distanza, finiscono per addentrarsi nel deserto, che è pieno di rotolacampi che confondono il gruppo, iniziando così a controllarne uno ad uno perché sentono la voce del Pokémon, che è lì presente. Poco dopo, Bramblin viene intrappolato in una rete e finisce in una gabbia assieme ad altre creature. Una ragazza pare abbia richiesto infatti a dei cacciatori di acciuffare Pokémon carini per lei, nonostante Bramblin non sembra essere di suo interesse. Mentre continuano le ricerche, il gruppo dei Locomonauti notano i cacciatori di cui parlava Shine mentre ingabbiano altri Pokémon, con Freed che interviene bloccandoli e legandoli ad un albero. Il gruppo così riesce a rintracciare la posizione dei cacciatori e ovviamente anche di Bramblin, dando così inizio ad una lotta 3 contro 3 dove Pikachu da solo riesce a tenere testa a tutti, quando la cacciatrice si accorge di quanto sia carino il Pokémon, scatenando così una reazione allergica dato che Capitan Pikachu è allergico ai complimenti sulla sua dolcezza. I cacciatori allora si impegnano per prendere il Pokémon di Freed, con Lico e Roy che difendono il loro amico, mentre Bramblin tenta di fuggire dalla gabbia con vigor colpo, ma fallendo perché troppo debole. A un certo punto, dopo aver visto il Pokémon brillare per un attimo, Pikachu inizia a rifiutarsi di seguire gli ordini di Freed e scappa via, quando il professore, mentre i ragazzi continuano a lottare contro i cacciatori, si accorge che la ragazza è rimasta da sola, urlando così a Pikachu di intervenire, con il Pokémon che con tuono pugno sconfigge l'Avalug della ragazza. Il prof aveva capito che il suo amico aveva un piano in mente, con Freed che poi fa usare Rapigiro a Bramblin, capendo che era pronto all'evoluzione in Brambolgast, dopo aver camminato così tanto trasportato dal vento, con il Pokémon che stavolta con vigor colpo distrugge la gabbia. Alla fine, Pikachu riesce a sconfiggere gli avversari, confermando a Lico di essere la coppia perfetta, assieme a Freed, da presentare in classe, con il Pokémon che è stato anche restituito al suo allenatore. Puntata direi tranquilla che da inizio a una serie di episodi meno legati alla trama. Non ho molto da dire sinceramente, sono un po' deluso dai cacciatori e dalla lotta, anche perché l'animatore che ha fatto questo episodio, diciamo che già in generale, non è che mi piaccia così tanto. Bello ovviamente vedere come Freed e Pikachu riescano a capirsi anche senza dialogare direttamente, ed è carina l'idea che abbiamo comunque voluto giustificare queste puntate iniziando una serie di missioni per racimolare soldi. Il voto che do alla puntata è un 5 e mezzo. Nel prossimo episodio, grazie ad un video di Nidotina andato virale, una ragazza chiede aiuto ai Locomonauti per un suo Pokémon. Segui il continuo della storia con i nostri in sintesi e attiva le notifiche per non perderti i video. Ciao! Ciao!